Buonasera popolo, che guarda i video di maccheroni perché mi ha di meglio da fare Siamo venuti qui a giocare o a poco? Attenzione è tratto un disturbo là, là è sospeso Oh yeah Oh 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 yeah Oh yeah A fare una freccia A fare una freccia uri Buondi Io devo riprendere i nodi Io l'ho sempre visto in quella posizione lì Quando entro negli hotel Ma dai mi guardo il bagno prima Pioraldi inizia con qualcosa di stupido dai Buonasera popolo di Youtube, Facebook, Twitch, Linkedin o qualsiasi altra piattaforma Pornhub? No, Pornhub è illegale in questa nazione E anche mostrare i piedi Madonna, adesso apriamo l'OnlyFence Biondo nerd Non mi va la BPN A me non va Wine, quindi non mi vai da nuovo Può avere una mano, tipo, non puoi ammazzarti Ho trovato i riserati Quanti K portiamo a casa? Minimo 20 Però 20 proprio se siamo scarsi Finora i trend di Debcon dicono che noi si va a casa a mani vuote Vero Potrebbe essere questo il giorno in cui andiamo a casa con i 20k? O con i 30k? Probabilmente no Ciao Ciao, bevissima E quello che è comodo Siamo qui riuniti quest'oggi per ringraziare il Signore Vinciamo un giro in prigione senza passare dal via Esatto Anche un po' di musica di sottofondo Sì, poi ci mettiamo No, qua ci metti Walk the Dinosaur L'importante è dire le parolacce sul Signore in inglese Eh no, in italiano E non nominare mai il nome del Signore con la A e quello con la M Perché potrebbero succedere Mussolini Esattamente Perché potrebbero succedere cose che comprendono pietre lanciate con forza Verso di te più volte Siamo tutti sicuri di voler evitare la lapidazione Puoi aggiustarlo, sì, con biondo Saprai farlo, sì, con biondo Con odi che bestemmia Più alti e poi Daniele si cambia Insieme a noi Se hai un problema e pisci in piedi Daniele si arrabbia Qualcosa Puoi aggiustarlo La credibilità di un uomo in costume Ed ecco un maccherone OnlyFans Perché sto sorridendo Sto facendo un video, bastardo Biondo, sei carico Assolutamente no L'ho scoperto che all'emiro piace Bisogna un tirami... no Sto perdendo una roba Per cui mi puniscono qui Quindi non lo farò La parola con la M o la parola con la A? La parola con la C Cacca Ci hanno messi i fanagoli Che sono qui con lo laptop Verso la platea E ci girano con la stessa Vabbè? 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 Day one Io in questo paese sto ritrovando la fede Non so quale Esatto Io a colazione stamattina Eeeh Yes È una varietà di berretti Non da poco Ma quelli dietro di noi a colazione È bellissimo quel berretto Hai visto? È bellissimo la pezzata No io comunque non sopporto più Daniele È un dittatore È tutto il giorno È tutto il giorno che ci rompe le pade Oh fortissimo Daniele Ciao Ciao No grazie Bonaf che ha risolto una challenge 6 ore dopo di noi In due minuti Però stava dormendo Vorrei aggiungere che non è vero Perché Bonaf Essendo allata Non poteva giocare E avresti allato lato Il nostro amico Riccardo Non ha giocato Perché ricordiamo che Ci ha dato un saggio consiglio Che era La cosa importante Nell'hacking È seguire le regole Fioraldi Quanto succhiamo? Direi abbastanza Ma non troppo Cioè poteva andare peggio Ma poteva andare meglio Mi sento Non mi muovo Stanno chiacchierando Da un quarto d'ora Invece di si esploitare Non è professionale questa cosa Siamo venuti qui a giocare O a posa? Io dalla piscina Pono meglio Non esiste Non esiste Che mi dica Che non posso andare No ma tipo Devo toccare uno dei numerelli Ci sono i defangeli psiche Dicono i bit A cosa corrispondono Sì Perché è una È una È una È una È una È una No bruttossi Oh la Se voglio bere il gin tonic Lo bevo Se prendo flag È nata una bromance qui Eh sì Eh sì Guarda nemmeno la colonina Li divide La prima giornata È andata Secondo me È molto male Nel cesso Possiamo dirlo? Abbastanza sì Secondo me è molto male Perché abbiamo Succato Molto forte Una competizione Una competizione che inizia Senza la corrente Per mezz'ora E senza internet Per due ore Non comincia col piede giusto Poi ora qualcuno potrebbe dire Stiamo solo cercando scuse E probabilmente è vero Avrebbe ragione Sì Avrebbe assolutamente ragione Però E da lei Adne che è tutto Paolo Montesel Striscia la notizia A Vudavi A Vudavi Cazzo Stai facendo Gaspare Mettemi a parlare con le persone poco importanti Quanto abbiamo succato? Dura ancora un giorno intero Quindi Sì ma Cioè se succhia l'inizio Succhi Con una vera domanda Cioè la prima L'avete fatta Però l'ultimo Ah pure ci controlla questo L'importante è quello che ho fatto io Non abbia fatto neanche un punto Quella è l'unica roba importante Ciao mamma Buonasera Ciao mamma buonasera Se continua così Non arriviamo alla fine Magari volevamo chiedere opinioni Su quanto steste scrivendo voi Però Ringraziamo La tua opinione Su Ci sono 20 servizi Ne abbiamo fatti due Quindi Noi neanche Uno Macchiaroni gang Tu vai a parlare 36 Io non ho la folla Black cat Vabbè prenderò questo Mellino Il peper è giusto Lo scriviamo noi La mia cripto ti spacca Il traccetto corto perché sei Di Genova Che ore sono? Sono le 2.54 E abbiamo flaggeato signori E io mi sto gustando degli ottimi Kebab Steer fried noodles Non buonissimi Devo dire che forse è stato un errore Mangiare questi stir fried noodles alle 2 e Mario hai usato il mio magico Togli quel file Non ancora Non ancora Magico cazzino Dai Mario Non ho ancora usato quello Quel cazzo di Quando iteri ti da Il nome del file Senza estensione Dai gli un requirements 035 Ma valgono qualcosa The flag non credo Qualcosa si Poco Poco Ho appena fatto uno script Che ci farà arrivare Completamente da solo Mario crede di aver dato una mano Ma come al solito Non sa fare nulla E continua a dirmi Che non posso andare in piscina Io voglio andare in piscina Va bene Sono venuto qui per la piscina Exploit Ci siamo Ci siamo Premi exploit Il papuzzo si è appropriato di un exploit Perché abbiamo L'abbiamo fatto insieme Ora lui dice che l'ha fatto lui Solo perché ha scritto 10 diga di coci Dice che sa scrittare Ha scritto un parentesi quadri Read Dicendo che quello che scrivo io Non era buono abbastanza Non è vero Dove lo so Update A minute ago Premi deploy Mi ha messo Z3 nel requirement Mi ha fatto adesso vero Si Ah ogni volta voglio cliccare deploy E no Potevi fare anche la command line Ah è fallisce Merda perché fallisce Eh guarda i lol Z3 solver si chiama Z3 solver Senza trattini Si te fai due o fai tre Fai tre Ok Allora bisogna cambiare requirement No matching for distribution For Z3 solver E con l'S maiuscola Qualche cagata del genere Vero? No Z3 trattino solver Forse Trattino Prova a controllare Fai un pip Freeze Grapp Z3 Z3 trattino solver Sì Ecco Grazie Fioralli Maiuscola No è tutto minuscolo Questo sono 100% sicuro Sta buildando Sta buildando Refrescia 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 Oh mio dio C'è la balena Sta balenando Sta pushando Oddio Mi sento come una madre Che fa un bambino Stesso dolore Che lo sei a te Sels E mo? E mo aspettiamo un attimo Che arrivino dei log Beh spera che arrivino Non si sa mai Quei log lì sono rottissimi Rottissimi è un'altra cosa Diciamo non sono ideali Eeeh no Vuoi emulare Vuoi risolvere con Z3 Vedo le flag Questo verrà bippato Bip Dai cazzo Ah no Questo è il segreto industriale Questi sono i miei piedi Guardali Amici di striscio I maccheroni Grazie principalmente al biondo Ma a tutti Recupera la grande La cosa più bella Sono quelle due flag Sui servizi Paravolo Ci manca una challenge E stanno perdendo tempo Gli organizer sono arrivati Sono dieci minuti E ci prendono E non sono in grado Di scrivere un pezzo di script In cinque sono questi In cinque Dai fammi un commento Fine partita Commento a caldo Eeeh Sono tutti in piscina Abbiamo perso Perché sono tutti in piscina Come il mio caro amico Collega Il compagno di squadra Paolo Montesella Ha detto E anche oggi Si vince la prossima edizione Mario Polino Mario Sicconi Mario Polino Che sostiene che gli scarsi Non sono scarsi Ma sono solo Meno scarsi Diversamente hanno persone Che saranno forti in futuro Ehm Should I even comment on that? Sì allora Ehm Praticamente A un certo punto Allora Daniele Com'è andata questa CTF? Abbiamo succatto il cazzo No caro Paolo Perché in questa nazione È illegale No è illegale Dormire con le donne Se non sei sposato Prova ovviamente Anche con gli uomini Soprattutto Molto esperto di legge Ehm Il famoso esperto di diritto Di legge della parola S Che non si può dire Esatto Della parola S Sapete anche che sono quasi 1000 euro di multa Che fari una maschera Con la riba Ma Per babuzzo Rischierò la multa Per fare questo Adesso ci sploitano Questa diventerà Un altro Delle lonteprime Del trailer La CTF L'unica cosa che non mi piace E' che c'era un'italiana Che non ha fatto il terzo Ma credo che Deve avrei fatto il terzo Questi ragazzi Invecevano davvero Invecevano davvero Un'exploit Un'exploit? Dai 5 euro Senza Senza Mi stavo facendo vedere Tipo Un mio vecchio bug Su Caps Mazzando Tipo che due anni fa Stantina domini Mi mandano un messaggio Caps Bugs Su LPE 30.000 euro E io invece L'ho ripetato Quindi chi è il più stupido Tra te e loro Dottor Fioraldi Però sono un grande ugualtazzo Vero Anche se il tuo cappello In questo momento Non è white E' tutto forché white E anche Fioraldi Devo dire Non è completamente white Come direbbero Negli Stati Uniti La cosa che mi consola È che Dominic Sta perdendo i capelli E quindi E' un problema Di avere il team Di essere il gas con 4 pelati Forse fazzare Per cadere i capelli Possiamo dirlo Io faccio solo domande Non lo so Non so se fa cadere i capelli Ma non aiuta per scopare Cioè quando vai in discoteca E dici Lo sai che io lo faccio farci A me aiuta per scopare Non essere calvo Non essere calvo Posso dirlo Essere calvo zio dipende da Credo che aiuti anche Non fazzare Babu Tu hai i capelli Non fazzi Ma non scopi Quindi questa cosa Non scopo Con le nonne Non scopo Con altri Per scelta Per scelta Per scelta Per scelta Qui ci sarà un montaggio Di marine mall Siamo molto soddisfatti Della popolazione locale Perché siamo qui In osservazione E non aggiungo altro Datti un commento Prima del partitone Si spacca oggi Com'è dopo questa impresa Io ho speso tipo 15 euro Oh ma il partitone di così Ok Questo è il piccolo qualcosa che ho mai avuto in見ci Sono isteriore e poi questa piscina era più una pozzata anche era